Capucetto Rosso Challenge, è molto molto semplice, hanno appena aggiornato, hanno messo questa skin, hanno messo un sacco di roba a Whaling Woods, due piccioni con una fava Andiamo a Whaling Woods, non possiamo uscirne finché la zona non ci obbliga ad andare via e praticamente dobbiamo vivere lì La cosa bella è che in questo momento il taglio ci fa cascare perfettamente sopra, quindi immagino che ci saranno circa 20 player in mezzo ai boschi e il Capucetto Rosso dovrà uscirne viva, peggio che con i lupi Ovviamente vogliamo fare una versione di Capucetto Rosso anche con il lupo, però level 100 passo battaglia, bisogna fare un sacco di expo, quindi aspettiamo un attimino Ovvio Steph, cioè i boschi poi sono l'habitat diciamo di Capucetto Rosso, la sua casetta stava in mezzo ai boschi, quindi È perfetta È perfetta per lei e deve riuscire a uscirne viva, no? Allora, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 15 Dove vuoi scendere tu? Ma non lo so Perché io non voglio andare al centro, andranno tutti là, quindi non lo so Eh, io sono scelto al centro Eh, vabbè, andiamo al centro Perché una volta che entri qua Steph, non ne puoi più uscire, perché sto posto ha una sola via d'uscita, quindi la gente poi ti aspetta lì ed ecco qua lui che entra E ti uccide, ok? Farre, lo so, però ti giuro che c'è gente davvero ovunque Abbiamo gente sopra, vero? Ma anche qui dentro, sì, 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 sì Hai armi? No, ho trovato uno sull'urto Sì, dietro di me? Sì Presa Sì, ovviamente Valendo possiamo prendere un rift E spostarci un attimo Beh, sì, avrebbe senso magari posizionarci un po' meglio e sta roba la prendo Quindi, aspetta, vediamo se c'è altro loot Sì, ok Andiamo? Sì, vado Ok Così vediamo un pochettino dove stanno loro e ci spostiamo Puntiamo una casa a caso, tipo questa Anzi, qua ci sono le ceste un attimo Qua, qua, qua ci sono le ceste, certo Non ci sono i poteri in sto momento perché li hanno disabilitati, ma vabbè Una testa Rampino, vabbè Se vuoi, a me non serve Eh, sì, anche perché ce l'ho bianco, quindi va bene Però al momento ho solo l'M16, Stef Ho solo la R Ok Quindi non ho fucili a pompa e devo stare attento ai fighter avvicinati Io giusto l'SMG ma non ho la R Cioè, non ho il pompa Ok Questa casetta ci sarà qualcuno? L'hanno già aperta, sì C'è ancora qualcuno? Non lo so Sì Mi tira granate Ah, c'è una bomba È morto, sì Sì, dove sta l'altro? Perché non è ovviamente, vabbè I'm sorry Wow Ma mi serve, mi serve il tuo loot, scusami Ma hai visto che avevamo? Sì, non so perché anziché provare a spararmi mi ha tirato una bomba a ballerina Ha panicato e non è riuscito più a fare nulla Vabbè, era scarso Non so perché Non è che ci vuole molto Non ci vuole molta roba per spiegare Se stava qualcuno ha panicato, capita a tutti Non essere così pessimista Allora, ne ho visto uno al centro Comunque siamo dentro la zona, è pieno di gente E la cappuccetta rosso è più difficile che ci poteva capitare E ne sono felice Perché deve essere una vera sfida Allora, andiamo al centro e tiro un portaforte Non a fortress, ma a forte Ok Per rendere le cose più complicate Altro che il cappuccetto rosso è timida-timida qua Qua combatti direttamente contro il lupo, Steph Neanche aspetta di essere mangiata Aspetta Ucciso Bravi, cavolo Qua c'è un tattico, qua c'è un tattico Che bello, finalmente fucile a pompa Ma ce ne sono anche qua Ok Ok, questo Uh, me lo prendo, dai Non ho molto equip Il tipo aveva il pompa Noi no, mi ha demolito Ah, scusa, Steph Scusa, non te l'ho detto Un medikit Scusa, un attimo Mi si sta Sera Che problemi stai avendo Su Non lo so Mi si è reintrippato tutto E quando non ti funzionano i tasti come dovrebbero Il cervello Come dovrebbe Anche 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 Allora, dove andiamo? Che facciamo? Beh, allora, al momento siamo dentro la zona Quindi dobbiamo restare dentro Mi tiro sto oscillone Così almeno sono messo anche bene Adesso ho il pompa L'SMG Non so se c'è altra gente nei boschi Ma mi pare di sì Perché ho visto davvero tanta gente Che secondo me Quindi Semplicemente Capucetto Rosso va a caccia Non aspetta di essere protetta dal cacciatore Diventa lei il cacciatore Esattamente Avevano fatto, mi sa, un film con sta trashatta così, no? Ma davvero? Sì, mi pare di sì che c'è tipo Capucetto Rosso che ne va a cacciare la gente Una roba del genere Ah, nel caso non l'ho mai visto, Steph Perché nella favola ovviamente No, neanche io È aiutata dal cacciatore Però me lo ricordo Che poi la libera e bla 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 Fight vicini a Risky Reels Però vorrebbe dire che qualcuno potrebbe passare di qui Vieni, vieni, vieni Ci mettiamo in posizione Ok Li aspettiamo Io ho pochissimi colpi Ho tanto È un puccetto rosso Aspetta, scusate, sai Lo dici tu Ho trovato anche una casa non lootata Ah E sono talmente tante Perché poi sono tutte uguali da fuori Quindi non ti ricordi Già, è difficilissimo Perché sono tutte identiche Ah, è SMG verde e non ce l'avevo Quindi ottimo Ho buttato il bianco Nel senso, scusami Ce l'avevo una brutta Sì, sì, ho capito, ho capito Ti ho visto Poi, quello lì è un trampolino Quindi ci siamo fatti anche il trampolino C'è un'altra cesta ancora Buona Stef, siamo purissimo dalla zona Vabbè, dovevamo per forza aspettare qua Eh, guarda, c'è anche il blu La pena prendo A te non serve? No, ormai mi tengo il... Come si dice? Ok Fede, butta... Il tattico E butta e prendi, sì Lo scildone Ho capito Andiamo? Conti col piedi, mi hai messo, dici? Ottanta Tieni Che cavolo non mi ha visi Il cervello, accidenti a me Tieni Opla Ecco il paio di capucetto Non ti aspetta Eh Mi prendo il pump E mi prendo l'SMG blu Va bene Perché se dovevo tornare a prenderlo Dove stava? Uh Vedi di muoverti, eh Perché qua c'è roba di fight Cioè l'SMG verde Che non può che essere recente Ok, mi stavo perdendo Scusa un attimo È un po' angusto quel posto lì sotto Arriva, 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 arriva Eh, vabbè, sì Poi da sti divo Ci sarà un botto di gente lì E ovviamente sta chiudendo al centro della mappa Ah, sì, perché Tutta questa zona non fai tanto E non fai tanto talmente tanto Che non possono essere lontanissimi Sono tutte e due fermi a sniper A, Steph Headshot 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 Non sto scherzando, eh Cappuccetto rosso L'avete sentita? Le andiamo ai trampolino? Sicura? Non lo so Occhio Che dici? Se vuoi, non lo so Siamo fuori zona Non possiamo perdere troppo tempo Li molliamo? Eh, o li molliamo o andiamo Decidi tu Andiamo, dai Ah, mi chiuso No, perché questi Oh, sono scesa sotto Troppo sotto Colpito? Vabbè Stanno fermi a cercare di sniperarti Quindi Si prendono pure i colpi gratuiti Pur di Non mi piace come giocano Colpito? Vabbè Grande step Andiamo verso la zona Quando giocano così A me di solito Fanno sempre perdere la pazienza E finisce che poi Cioè Vincono anche perché Hanno pure le ground Quindi Beh Adesso loro devono scendere E ora li chiediamo a fare Esatto Cosa fate adesso? Si lanciano con il bouncer ovviamente Colpito 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 Uno non ha più shield E uno ha tipo 20 di vita No, troppo lontana Non sprecarle No, no, ci arrivo Sto andando, eh Ok Anzi Zona, 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 zona Eh, pensa anche a quella Sì, sì Mettiamola pressure con la zona Dai, con calma Steph, ho appena visto fare Una fortezza di fronte a noi Mi sembra appena costruita Perché l'ho vista proprio poppare Dietro di te Quindi fai attenzione E ho visto costruire Quindi c'è gente Una terra Grande L'altro letteralmente un hit Ok Mi metto sul tetto Occhio alle nostre spalle, Steph Copri di le spalle Ma quello ha 2,40 Sì C'è gente E li ho visti Eh, ma quello intendi, sì Sì E quelli ovviamente ci vedono E ci cecchinano Questo sta qui Ok Grande Andiamo via Via, via, via Mi hai bloccato Colpi 114 No, perché lì ne è 200 Ok, ok No, già mi bastano Cioè non c'è bisogno Che li dividiamo altro Ok E io li ho proprio visto Costruire attorno Cioè sotto di mattoni Quindi suppongo che fosse stato Eccoli qua Eccoli qua Ok Conta che abbiamo gli alberi adesso Esatto Io penso a coprirmi Perè, hanno ammazzato Un player qua di fronte a noi C'è un botto di loot Dai, 5 di vita Davvero Vabbè, mi sono presa la mela Ok Eh, però sì, Steph Questi qua Io odio le fortezze Porca miseria Sì, vai a fare Se le odio, guarda Sentite un airdrop qua vicino Sì, sì Io stavo andando all'airdrop E ho visto questo loot Capita? Ok Che era meglio dell'airdrop Guardali là che modificano Spero che li chiuda Sì, li chiude fuori Perché poi risultano davvero problematici questi Ok Pieno di loot ovunque Aspetta un attimo Non voglio fermarmi troppo a luttare Mamma Mamma Se non avessi avuto paura Lo prendevo in pieno Ce la faccio a prendere l'airdrop O mi pigliano? No, ho tanti alberi Dovrei farcela Ok Scar leggendario Ottimo E c'è anche uno slurp Ok Quanti scelta ne hai? Due È quello il fatto Meglio Fanno comodo, sì Andiamo? Novi vivi siamo tanti Per una zona che arriva a essere così piccola Va bene, va bene Va bene Il discorso è che sappiamo posizione solo di due Questo è il problema Di occhio Perché potrebbero sbucare davvero davvero davunque Allora, ne ho visto altri a 300 gradi È per noi? No No, penso a quelli A 300 gradi, sì Per loro Quelli che stavano lì Non so quanti perché ho visto costruire Steph, e basta Non hai visto quell'oscillone? Sì Infatti sto andando a prenderlo Se riesco Perché questi sono pronti a A cecchinare Ok Non mi hanno regalata la vision gratis Va bene Pazienza Speravo di snapperarli Mentre loro snapperavano Però niente Eccoli, si sono buttati Ok, trampolino Quindi va bene, va bene, va bene Nove vivi Guardiamoci bene qua intorno Dobbiamo assicurarci di non avere nessuno alle spalle E poi pensiamo A come uccidere tutti quelli che rimangono Una terra di colpo di pompa Ok, quindi si stanno Si sono proprio irrasciati C'è un'oscillone ma sei già tre Esatto, Steph Allora, sto prendendo un po' di colpi Perché sono messa malino Aspetta, quanti ne hai? 150 e 24 del pompa Fare, tieni Tieni anche i razzi Quelli che sono riuscito a trovare E adesso andiamo veloci Ok Lontanissimo Occhio, Steph Magari qua Sei vivi Lo so Quindi sono Potenzialmente due contro due contro due Sì Dove stanno? No, là Sì, ma è l'altro team? Un team è lì Ah, stanno faiutando là Lasciamoli faiutare Mamma mia Steph si fa notare Ma frega nulla di farmi notare Voglio kill Eh, l'ho capito, però Sono le basi enormi Ma è che enormi Ok Ok Eh, la zona da tutta altra parte Sempre a correre Sempre a correre Sì, sì, va bene, va bene, va bene Io non capisco Non ci credo che lì ci siano quattro player incastrati L'unica certezza è che lì stanno faiutando Stanno faiutando quindi Cioè ci sono per fuori Però ci sono Giù Colpito shield Ok Io ci arrivo secondo me No Non sprecarne Per pochissimo Guarda Volevo buttargli tutto giù Hai visto questo? Sì, un attimo che mi stanno sparando Quindi cambio zona Lo vedi? Sto arrivando Steph L'ho visto comunque Ma ma gli altri mi preoccupano Spamma lì granate e non farti cechinare L'ho colpito, l'ho colpito Brava Shield L'ho ucciso, l'ho ucciso, Steph Di granate Di fronte a noi due Ok E l'ultimo è sotto di noi la destra Quindi ricoprirti 3.30 e pensare a questi due Allora 3.30 e pensare a questi due Vengo dove sei ta Calmi Calmi Ok Quindi uno è qui sotto proprio Non ha più shield Ucciso Ok 2-1 Eccolo Dov'è? Di fronte a noi Ok E' qua Sono fuori zona GG 5 kill mi son fatta Io 2 Capucetto rosso Vinta 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 Capucetto rosso Sono stato il tuo cacciatore 5 kill tu 2 io Cancello la rec Cosa stai insinuando Steph? Nulla Nulla Ma sto giocato bene Che vuoi? Mi è arrivato addosso L'ho pure pure dalla zona E l'ho vinto io il fight Bell game c'è stato Dai Capucetto rosso è già andato Raga Già pulita Arrivederci grazie come skin Non ci interessi più come challenge Il mio camaleonte che sta esultando Sta facendo Ci abbiamo messo il marchio Dai vabbè Bell game Bell game Qua sotto come sempre compagliano altri video Iscrivetevi al canale Campellina E ci vediamo in prossimo video Ciao 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 ciao